Allora abbiamo detto, le salopette stanno bene a Super Mario, i due anni, oppure a quelle che stanno in fissa con riuso, quelle che non buttano niente e che quindi riscaldano la casa con le cocce delle fave, oppure col mandarino essiccato, oppure direttamente danno fuoco alla lettera del gatto. Comunque, per carità, cioè se ve le volete mettere mettetevele queste salopette, però ricordate amiche che in abbinamento con questi zoccoletti olandesi che vanno adesso molto di moda, si genera una combo tra i due elementi, tale per cui il passo successivo è la trasmutazione in una bizzarrona elfa del bosco con un disagio della psiche, che voglio dire, per carità, sarà pure simpatica, cinque minuti, però poi dopo rapporti sessuali pochi, cioè niente, rapporti sessuali niente. Sempre che a noi ci interessino più i rapporti sessuali, perché voglio dire, ma è tanto bella la televisione, io mi trovo molto bene con la televisione, è bella la televisione, e che io vedi?